Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di oggi, siamo tornati sulla find de cartello Esatto, find de cartello, eravamo arrivati a livello 3, sto utilizzando adesso la mappa, quella diciamo ufficiale Che rilasceranno non so tra quanto, io ovviamente prima ho avuto la beta in anteprima e adesso ho anche la... Aspettate eh, fatemi fare sto salto che questo è impegnativo, ho anche la versione per gli animi beta Ok, sono morto male, respawn Adesso, premessa il cartello, sono quasi sicuro che non sia lì Ora io non posso spegnere neanche le fiamme, il che mi dà un po' fastidio Per quanto riguarda la lava, certo non sarà facilissimo, vero? Infatti non posso toccare la lava perché muoio subito, quindi già ci leva diverse opzioni e diverse cose che ci possono... Cioè diverse, sì, possibilità, ok? Adesso, 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 perché lì qualche cartello ci sarà, ma sono quelli trolle, guarda ci metterei giù casa Ahia, ahia, ok, qua dentro, qua sotto non c'è niente, stiamo tornando ai livelli imbarazzanti di qualche... Eh, esatto, se tocchi la lava muori E infatti eccolo qua, il cartello troll sign, esatto È convinto che fosse troll, bene Ora, da qui mi sa che poco facciamo Volevo vedere se riuscivo, se questi fossero pilastri per saltare da qualche parte, ma sono totalmente inutili Da qua ho una visuale diversa, magari, di tutta la zona e speriamo di trovare qualcosa anche se, in verità, poca roba Sono circa 5 minuti, lo vedete là sotto che stiamo facendo questo livello E non ho trovato ancora la solution a tutto ciò Capite che è un po', è particolare perché, tipo, io l'ho girata tutta, già l'ho imparata a memoria a sto posto E attualmente non c'è Io se tocco la lava muoio male, quindi Non lo so, devo essere sincero, non so minimamente dove sbattere la testa Eeeh Ehehehe Ehehehe Bella domanda, bella, bella domanda Hey guys, di qua magari nascosto da qualche parte Inizio a spam cliccare pesantemente dappertutto Sotto la lava potrebbe, perché no sotto la lava Vediamo un po' se magari, perché sotto la lava alla fine potrebbe starci tranquillamente, no? Tipo metti un coso sotto, questo è profondo 2 Ovviamente ce la puoi fare, sto morendo Wow, ok Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' No, nada de nada Qui non c'è nada Proviamo quest'altro Vediamo se c'è qualcosa Ma guarda Ma che cazzo C'è un cartello Grandi Grandi E andiamo E andiamo qua alla mesa E andiamo alla mesa Cazionale Proprio lui Ci sono le barriere sopra, esatto Vediamo un po', eh Sto facendo un po' di arrampicata Ma sicuramente qua non c'è nada de nada Esatto, infatti Ti pareva Non ti fanno far sta roba easy Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene Allora Qui ci potrebbero essere passaggi Qui ci sono passaggi segreti, sicuro Però io non posso rompere niente Allora, vediamo un po' che cosa c'è lì Ecco lì c'è qualcosa Ma io come ci arrivo Esatto Perché qui sono tutti chiusi Sono tutti alti due Quindi non posso farlo Però posso arrivarci da di qua Sicuramente sì Quindi risaliamo da di qua È tipo un parkour Extreme parkour Parkour è un po' una caponata di parkour Vediamo se ci riesco, eh Oh, ci sono riuscito la prima volta Quindi ci riesco anche adesso Ma non era mai facile Riuscivo a farlo Oppo, bene Poi andiamo di qua E anche qui siamo a posto E ok Dopodiché Qui non ci posso saltare Perché ci sono le barrier E non mi ci fa arrivare Quindi per forza così E per forza così Ok Ora da qui a lì è fattibile Esatto Molto bene Quindi facciamo una cosa del genere E poi di qua Eh no Dai l'ho persa tutta Altra prova Vediamo un po' Se stavolta ce la facciamo Sì, perfetto E poi di qua Oddio Oddio Eh no però No L'odio profondo L'idea mi è venuta passando di qua Perché secondo me La più ovvia è quella Ma Non va bene Quindi facciamo una cosa del genere Tac, tac Ed è sì E poi più come Sul cactus Forca troia Eh ma come ci arrivi di là Oddio che casino Casino ragazzi Che casino Niente non c'è verso Cioè è veramente Perché una volta saltato qui Da qui Tu non ce la fai Ma qua io posso Non posso stare sopra le cose No Queste sono Si passa tranquillamente Aperto Quindi Io da lì Ho possibilità di andare qua Ma no è troppo lontano Lì non ci arriverò mai Quindi Questo è da escludere Non ce la posso fare Eh di qua L'unica cosa è arrivare di qua No perché poi fai tutti i salti easy E di qua ci arrivi E siamo d'accordo Ma il problema è come arrivare Da questo punto A questo punto Perché Cioè È lontano da qui Sei uno più basso Non puoi saltare Qui Sei troppo lontano E poi c'hai anche la cosa difficile Che Questo fa male di cactus Non lo so Altro giro Altra corsa Wow No 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 Che non si può fare Ho trovato sta cosa qua Interessante Non so cosa sia Ma è interessante Adesso vorrei provare appunto A salire là sopra Per capire effettivamente Che cosa possa essere Se davvero è Qualcosa che ci può dare Una mano Allora È lì no No Non funge Non mi pare No 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 Eh Ok da qui Dobbiamo scegliere Dove buttarci Ma non mi sembra Il posto dove buttarsi Aspetta un attimo Eh ma tanto La sopra Non ci può arrivare Quindi No Posso far una roba Uh per carità Ma era una cazzata Era una cazzata Bisogna saltare Da qui si fa Bisogna saltare E buttarsi in avanti Una cazzata colossale Ve lo faccio rivedere Vi giuro ve lo voglio far rivedere Voglio rivederlo Fabio Sono curioso Allora Almeno facciamo il tutorial Il tutorial per bene Hip Hip Ma stavolta non ci riuscirò più Per tutta la mia vita Sono sicuro di questo Ok ci siamo Saltate E scendete Easy Very very easy Checkpoint Eh come on Cioè pure Pure questa Ero tre coglioni Non bastava Dio che ansia Ma che è sta cosa Oddio Adesso morire Come morire Wow Beh per me Bellissima sta cosa Morirò mille volte Ma guardate È un casino qui Come che Allora Il primo che poi Mi posso saperla mente È qui Ma io non so dove Il cartello È difficile È un bel casino Poi con i parkour Io sono legato Proprio una cosa meravigliosa Ecco Me le provo tutte Ok quindi qui e qui Dopodiché Madonna santa ragazzi Ma come cazzo si fa Dai Veramente È impossibile Ti devi mettere qui Nell'angolino Ma Dio santa ragazzi Vi prego Vi prego Fa sclerare una cosa Incredibile Sta mappa Madonna ragazzi Che urto di nervi Che urto di nervi E di quell'altro Perché non devo farlo così In questo modo Così Di qua Ci sono pure riuscito Sì Ok perfetto Da qui a sto punto lì E poi cadi Cazzi come un drago Madonna che urto Vi giuro Sto in nervi e fior di pelle Sì ma poi da qui Dove Che cosa mi invento adesso È lì Ah così Pure davvero Veramente Non stai scherzando Non stai scherzando E anche per forza Perché l'unico modo è questo È uno dei parkour Forse più difficili Che abbiamo fatto Non che io sia bravo Nel parkour Sono molto molto Incazzato Non lo faccio a sto livello Non si fa Giuro ci potrei stare I mesi I mesi I mesi Allora siamo arrivati Alla conclusione Che è impossibile Perché guardate No no c'è un moto C'è ma È anormale Saltando lì Lì ci arrivi Poi fai questa cosa Arrivi qua Da qui arrivi lì Da lì Non puoi andare più da nessuna parte Perché Quello è impossibile Di salto Questo Non ne parliamo Già arrivare lì è un casino Poi è arrivato lì Non ti puoi muovere Passaggi segreti Non ce ne sono C'è Redstone E va bene Quindi da qua Secondo me Devi andare da qualche altra parte Per arrivare lì Non so dove Ma qui sicuramente no Perché a scendere così Batti E non ci puoi arrivare No a parte che sono morto male Non lo so Io Non lo so Facciamo il prossimo episodio Vedete Non ci puoi arrivare È anormale Impossibile Di qua Manco Lì Non ci puoi arrivare Perché c'è il tetto A scendere Stessa cosa lì Stessa cosa di qua Stessa cosa lì Questa strada Non porta da nessuna parte Io non lo so Allora Con calma Se io vado Ok Ma è tanto muoio A parte che muoio male Poi mi incazzo pure No Perché Ma non mi prende Neanche il giusto Neanche il giusto Mi prende Aiuto Allora Porca miseria È bellissimo Ci dovrei fare una compilation Con tutti sti scleri Non lo so Io non lo so Ho scritto anche a bisolo Mi pare ammazzato Va bene Allora Non ho la più palli di idea Sto qui da mezz'ora E non c'è stato verso Di far sta roba L'ho provato e ho saltato In tutte le direzioni E io non sono riuscito Vi giuro ancora A trovare la solution Non so dove sia il cartello Non ne ho la più palli di idea Però da vedere Da tutte le parti Non l'ho trovato Ci proveremo nel prossimo episodio Attualmente Attualmente Per la mia sanità mentale Forse è il caso Che non continui Non farò un altro salto Per evitare L'incazz... No vabbè Io provo Volevo provare ad arrivare lì Ma... Oddio It's fantastic Sì It's fantastic Tantavio del culo Perché non posso sal... Cioè Sperate la vulgarità Signori ma Come posso Perché qui c'è Madonna Dio l'ansia Ecco Ecco Vabbè 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 Già qualcosa Però so che si può fare Vabbè Dopo uno sprazzo Così Insensato Non c'è perso Vabbè ragazzuoli Penso che per questo video Possa tranquillamente essere tutto Ringrazio Bisolo Per avermi dato la mappa In anteprima Scaricatela Tra un po' Appena uscirò il download Ovviamente Vi lo metto in descrizione Iscrivetevi al canale Se avete fatto Condividetevi su Facebook E per me Passate in tutti Link in descrizione Facebook, Instagram E Telegram Come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi